Ma quante luci ci sono a Paris, è incredibile. Guarda qua, altro che Treviso, eh? Vabbè. Bello, eh, così. Sì, sì, bravo. Facile crescere in una città così. Eh, sì. Eh, cresce a Treviso. Eh, ma impari, poi se da Treviso vai a Parigi, diventi anche più intelligente. Ah, sì? Sicuramente. Guarda lei che lavora il computer da sola, così. Pazzesco. Che persone ambiziosi che ci sono. Pazzesco. Ma qui abbiamo filmato per andare al tuo parque l'altra volta, ti ricordi? Certo che mi ricordo. Proprio qui abbiamo filmato, no? Eh, beh, questa è la mia via di casa. Guarda qua quanta gente c'è. Eh, sì, eh. Pazzesco. Durante la settimana... Là davanti, davanti a Leon Cladel, c'è un nightclub. Un nightclub, una discoteca. Ah, ok, in quel senso. Una disco. Una disco, ma... Andiamo. Cosa c'è? È opera. Ma com'è opera? Quello è... È il tribunale? Questo è borsa. Ah, è borsa. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ah, tanto poi si gira a sinistra per Cladel. Cladel è qua, è l'ultima strada. Cladel è lo skatepark di Leon, dove lui è cresciuto. E si chiama Leon Cladel e io mi chiamo Leon Tinelli Cladel, quindi siamo là. Ma... Ma io sto... C'è anche stato un video su Threshold, dove qualcuno ha skatepark là, è bellissimo. Beautiful place, man. Comunque è bella la sera a Parigi. Quasi. La sera a Parigi, a settembre, è bellissimo. Sembra di stare... No, temperatura perfetta. Eh, ma Paris è così, ma poi hai i monumenti che sono di una bellezza. Oh, devi andare... Comunque se ci pensi, Leon, che è l'ultima volta che possiamo stare qui da te. Ma non dirmi queste cose, io non voglio essere emotional in questo video. Un po' mi intristisco, perché... Eh, man. Eh, comunque, bro, mi ricordo la prima volta che siamo venuti qua, con Marchino. Cioè, io non avevo mai visto la tua casa. Adesso vederla così vuota, dopo il trasloco. Che andiamo via. Non è passato di tempo. Lo strome. Sono passato un titano. Alla fine dobbiamo goderci ogni attimo, perché il tempo passa. E passa anche veloce. E passa veloce. Adesso andiamo al mio skatepark. Vai, vai. E ci facciamo un po' di... Old school therapy. Old school therapy. Ah, ci siamo, eh. Siamo quasi arrivati qui, eh. Qua siamo vicini, sai. Siamo qua, ma... Guarda che bello questo, ma... Dai, facciamo pausa. No, niente pausa. Vai, vieni. Ah, no, ma ci siamo, Bruce. È qua. È qua. Che bello, di sera, ragazzi. All'Uncle del... Eh, sì. Vuoi... Vuoi vedere cosa posso fare su questa rampa? Cioè, guarda che rampa, ZBB. Guarda che roba. Mamma mia, ragazzi. Io mi ricordo quando siamo venuti con Marchino qua. Che ricordi? Ah, è così. Vivi, questo è il mio park, man. Pazzesco. Mi ricordo come se fosse ieri che siamo venuti qua in tour. Ti ricordi? Era... E adesso gli dico ciao per sempre. Quanti anni fa erano? Sai cosa vuol dire? Eh... Andare via... Dopo tanti anni. No, ma da un posto in cui, tipo... Sei cresciuto. Incontri tutti i tuoi amici. Eh... Cioè, questo è stato il posto. Lo so. Cioè, io qua... Non è facile. Ho il 40% delle storie della mia vita. Ma sì, anche di più, secondo me. Eh, non è facile. Non è facile. Poi tornarci da turista o comunque senza avere la tua casa è diverso, eh. Eh, sì, è. Però comunque io sono qua, cioè, sono... Però ora... Io mi sento un po' francese dentro. Eh, lo so purtroppo. Lo so purtroppo. Mi metto a schietare fortissimo. Pronti, faccio un bel tre flip. Dalla piramide. Vai. No, 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 no. Non, no, no, no. Ok. 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 No, 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 no. Ma hai visto cosa c'è qua sul cartellone? Adesso io non so se sia la fidanzata, cioè se era la fidanzata o comunque una grande amica, ma lei era l'amica di Dylan, e questo è il park dove veniva Dylan a skateare quando veniva a Parigi. Madonna. Cioè, e adesso lei è nella pubblicità qua di fianco che guarda lo skatepark. Questa c'è da ormai 40 anni. Ma cosa dici? Questo è nuovo, l'altra volta non c'era, sennò me lo ricordavo. Sì, sì, Bruce, c'era. Lei non era qua sulla pubblicità? Lei è sempre qua, è sempre stata qua, Bruce. Veramente? Sì, sì, ma è sempre stata qui. Ma allora non è un caso questa cosa, perché se dici che è sempre stata qua... Cioè, questo park ha il mio nome, Dylan veniva qua alla sua fidanzata. Comunque è pazzesco, che c'è la pubblicità della fidanzata di Dylan alle oncle Adel. Incredibile, ragazzi. È assurdo. Non è a caso, secondo me, sai. Chiamare pubblicità, dai. Pari se parla. È della parte opposta. Ti verranno a piangere. La prima volta che ne vedo, mi impressiona. Io faccio una scale. Questo è lo sport.